Musica Milano Pavia News, buonasera, ben ritrovati, andiamo subito a vedere i titoli del nostro sommario. Barbara Pasetti si è avvalsa della facoltà di non rispondere nel corso dell'interrogatorio di garanzia che si è svolto questa mattina in carcere. La quarantenne ora è accusata di omicidio volontario. Ci sono già campi in Lomelina dove il raccolto è perduto gravemente compromesso per la siccità nella zona tra Candia e Valle e gli agricoltori hanno quasi perso le speranze. La Guardia di Finanza di Pavia ha scoperto nei mesi scorsi 39 evasori totali, gran parte dei quali vendevano merce via internet. È uno dei dati relativi all'attività svolta nei mesi scorsi. Il comune di Pavia affidato da SM e la gestione del servizio di igiene urbana del capoluogo si tratta di un contratto che avrà la durata di 15 anni per una cifra complessiva di circa 180 milioni. In provincia di Pavia si terranno a Garlasco i giochi di liberità organizzati dallo SPCGL, il sindacato pensionati italiani, previsti un concorso aperto a tutti i pensionati e una tavola rotonda. Queste le notizie della giornata, apriamo con la cronaca, questa edizione del nostro telegiornale. Torniamo sul caso dell'omicidio di Gigi Bici perché nelle scorse ore si è tenuto l'interrogatorio di garanzia nei confronti di Barbara Pasetti che ora lo sappiamo è accusata anche di omicidio volontario. La donna però nel carcere di Vigevano non ha voluto rispondere alle domande del giudice. Si è avvalsa della facoltà di non rispondere Barbara Pasetti, 40 anni, la fisioterapista della frazione Calignano di Cura Carpignano accusata dell'omicidio di Luigi Criscuolo, 60 anni, conosciuto da tutti a Pavia come Gigi Bici. L'interrogatorio di garanzia si è svolto questa mattina nella sezione femminile del carcere di Vigevano dove la donna è reclusa dallo scorso 20 gennaio con l'accusa di tentata estorsione e in seguito di omicidio. L'interrogatorio odierno è stato fissato due giorni dopo la nuova ordinanza emessa dalla procura di Pavia con le nuove incriminazioni per Pasetti accusata dunque anche dell'omicidio volontario aggravato di Gigi Bici con la pistola 7,65 che la donna aveva consegnato allo stesso Criscuolo affinché aggredisse o minacciasse quantomeno il suo ex marito Gian Andrea Toffano. Pasetti è inoltre accusata dell'occultamento del cadavere, della detenzione illegale della pistola e dei proiettili. L'avvocato Irene Anro, difensore della fisioterapista quarantenne, ha motivato la decisione della sua cliente di restare in silenzio con la necessità di leggere con attenzione la nuova ordinanza di custodia con i documenti allegati, complessivamente circa 2000 pagine al fine di studiare la linea difensiva da adottare. Barbara Basetti è anche oggi apparsa molto provata così come la era stata al momento in cui la squadra mobile di Pavia mercoledì le aveva notificato la nuova ordinanza. La donna, che non è in isolamento e svolge un lavoro all'interno del carcere, sente al telefono il figlio di otto anni che non vede più dal 20 gennaio, il giorno dell'arresto. Apriamo adesso la pagina dedicata all'emergenza siccità. In Lomellina ci sono campi dove di fatto il raccolto è già andato o perduto. Paolo Barri è stato per noi nella zona tra Candia e Valle Lomellina. Ci sono già campi in Lomellina dove il raccolto è perduto, gravemente compromesso per la siccità. Ci troviamo nella zona tra Candia e Valle. Si possono vedere campi seminati a soia dove la soia non è mai riuscita a nascere, ma pure campi di riso in grande sofferenza. Piante rade e nanificate che non potranno mai essere produttive come spiegano gli stessi agricoltori. Sono piante di riso oramai completamente compromesse. Si rompe e poi ovviamente è totalmente essiccato. Sono campagne in cui si è provveduto a una normale semina e i normali lavori preparatori e le prime concimazioni, nella speranza poi di avere la possibilità di irrigare. Invece questa possibilità ad ora è venuta meno e quindi la pianta attualmente è in stress. potrà resistere ancora al massimo una settimana se non arrivano irrigazioni. In queste situazioni il raccolto è totalmente perso. L'occhio inoltre non deve ingannare. Anche i campi più verdi sono in forte sofferenza. Le piantine di riso sono alte la metà di quanto dovrebbero essere in questo periodo e nei migliori dei casi riusciranno a produrre soltanto il necessario per le semine del prossimo anno. Molti campi insomma sono considerati già perduti. Questo è un riso che chi passa in macchina dice ma lì il riso c'è. È vero. Il riso, questa è stata una risaia che fortunatamente è rimasta sommersa, ha ancora il coltro di terreno umido e il riso tenta di svilupparsi. Però in questo campo si farà qualcosa ma sicuramente uscirà una spiga centrale per quello che è la natura che deve riprodursi. Non si farà più l'accessimento, le spighe laterali, si farà quello che verrà. E a Pavia l'emergenza siccità tocca ovviamente il fiume Ticino. Vi abbiamo raccontato dell'incontro tra le associazioni Remiere e il sindaco Fracassi. Quanto meno il comune si muoverà per cercare di andare a sistemare le sponde che sono state colpite da numerosi cedimenti nei mesi scorsi. Un tavolo tecnico permanente, interventi di messa in sicurezza, è questo l'impegno assunto dall'amministrazione del Mezzabarba con le associazioni Remiere di Pavia. Nella mattinata di giovedì i rappresentanti delle diverse realtà del capoluogo sono state accolte dal sindaco Fabrizio Fracassi in comune, a poco meno di due mesi di distanza dalla manifestazione organizzata sul fiume. Lo stesso primo cittadino ai nostri microfoni ha confermato che l'amministrazione farà tutto quanto nelle sue possibilità per affrontare la grave emergenza del Ticino. Noi abbiamo dato piena disponibilità di collaborazione con tutte le associazioni. È chiaro che il problema principale è la siccità. E da lì diventa difficile fare qualsiasi tipo di operazione perché purtroppo questi quattro mesi invernali senza pioggia, senza neve, naturalmente nelle montagne hanno fatto sì che anche i laghi siano in grandissima sofferenza. Di conseguenza essendo i laghi in grandissima sofferenza stiamo patendo fortemente. La situazione che stiamo vivendo è straordinaria. Il letto del fiume è quasi completamente prosciugato. Queste immagini si riferiscono alle scorse ore. Siamo nel mezzo del Ticino, nel tratto compreso tra il Ponte della Libertà e quello della Ferrovia. Le immagini parlano da sole. Ma se sul tema della siccità il comune di Pavia può fare ben poco, diverso è il discorso relativo alle sponde. Sono stati numerosi i cedimenti nell'ultimo periodo. L'amministrazione andrà ad intervenire in alcuni punti del tratto cittadino del fiume, nella zona di Via Milazzo, in Borgo Basso, grazie anche a dei contributi di Regione Lombardia. È veramente uno spettacolo mai visto. Io non mi ricordo un'operazione di questo tipo, neanche per il Po, perché poi se andiamo a guardare, sia il Ticino che il Po sono in condizioni veramente disastrose. Adesso metteremo in piedi tutte quelle che sono le operazioni per andare a fare una serie di interventi, per migliorare nell'ambito sponde, per andare a togliere qualcuno dei problemi che ci sono e quali abbiamo parlato questa mattina. Quindi piena disponibilità da parte nostra a collaborazione con tutte le associazioni del fiume e con le persone che sono interessate. Parliamo d'altro. Sono 39 gli evasori totali scoperti in provincia di Pavia dalla Guardia di Finanza. I dati sono stati resi noti durante la festa del corpo che si è tenuta questa mattina. Una festa che ha segnato anche il saluto al comandante Luigi Macchia, che da settembre svolgerà un altro incarico. Grande festa con una punta di malinconia per l'addio del colonnello Luigi Macchia in partenza per Roma a settembre presso il comando provinciale della Guardia di Finanza di Pavia in occasione del 248esimo anniversario dalla fondazione del corpo. La cerimonia, ricca di fascino, come sempre, ha visto la partecipazione delle massime autorità locali e statali, con tra gli altri il prefetto Paola Mannella e il sottosegretario Gianmarco Centinaio ed è stata l'occasione per fare il punto sull'attività 2021 e di parte dell'anno in corso, un periodo durante il quale, per fare qualche esempio, le fiamme gialle hanno individuato ben 39 evasori totali, gran parte dei quali vendevano merce via internet, e 150 lavoratori in nero. E poi la lotta alla droga e non da ultimo ai furbetti del reddito di cittadinanza. Nel 2021 vi sono stati scoperti bene il 63, tutti denunciati, che avevano percepito illegalmente circa 600 mila euro di sussidi statali nel corso del suo intervento di commiato il comandante Luigi Macchia ha posto l'accento su tre aspetti in particolare, la lotta all'evasione fiscale internazionale con la scoperta di una multinazionale straniera stabilitasi nel pavese in modo completamente occulto, quella alle frodi nell'ambito delle energie rinnovabili con il sequestro di oltre 100 milioni di euro nell'ambito dell'inchiesta Biolevano e non da ultimo quella alla criminalità organizzata che ha visto l'arresto di appartenenti alla clan Barbaro affiliato all'Andrangheta e presente a Pavia in Calabria. Come di consueto questa celebrazione è l'occasione per fare un bilancio dell'attività svolta dalla Guardia di Finanza di Pavia. Nel corso dell'ultimo anno è per me e anche l'occasione per salutare idealmente questa bella provincia perché come tutti voi sapranno a settembre lascerò questo comando per altro diverso incarico. Non intendo snocciolare dati e statistiche per descrivere quanto fatto nel corso dello scorso anno e nei primi mesi di quest'anno ma vi racconterò tre episodi di vita operativa che sintetizzano i principi informatori dell'agire delle fiamme gialle pavesi. Il primo parla di coraggio e abnegazione. Ebbene, il coraggio e l'abnegazione di finanzieri pavesi dopo anni di indagini che ci ha recentemente consentito di carturare un ramo del land andrangheta barbaro attivo tra la zona nord della provincia di Pavia e la Calabria più precisamente la Lovide e di sradicarlo alla radice. Le catture dei personaggi di maggior spicco a cura non di unità speciali ma delle fiamme gialle pavesi sono avvenute a Platì roccaforti di diversi clan d'andrangheta luogo dove eseguire anche una semplice perquisizione non è né facile né scontato. Durante la cerimonia alcuni militari sono stati insegniti con encomi una studentessa è stata premiata per la sua opera in omaggio alla Guardia di Finanza e sono state distribuite quattro borse di studio. Restiamo a Pavia dove il Comune ha affidato ad ASM la gestione del servizio di igiene urbana del capoluogo per i prossimi 15 anni si tratta di un esborso complessivo per le casse del Mezzabarba di circa 180 milioni di euro. Dopo il lungo iter di avvicinamento la giunta di Palazzo Mezzabarba ha finalmente affidato ad ASM Pavia la gestione del servizio di igiene urbana del capoluogo. Si tratta di un contratto che avrà la durata di 15 anni per una cifra di circa 10 milioni e 200 mila euro all'anno più IVA. L'esborso complessivo sarà dunque di 180 milioni di euro. Il prossimo step sarà ora il piano industriale che verrà discusso da Via Donegani il prossimo 27 giugno nella riunione dell'Assemblea dei Soci dell'Azienda. L'obiettivo è quello di portare la raccolta differenziata alla soglia del 75% nel giro dei prossimi 7 anni con l'utilizzo della raccolta domiciliare del verde. Vi sarà inoltre un giro di vite sui controlli al fine di evitare lo smaltimento dei rifiuti non domestici e il fenomeno delle discariche abusive. L'azienda di Via Donegani investirà nei prossimi anni anche sul parco automezzi con l'utilizzo di un sistema per il controllo dei percorsi. Tra le azioni che verranno messe in campo va ricordata anche la realizzazione e l'acquisizione di impianti dedicati al trattamento, al recupero e allo smaltimento dei rifiuti e l'internalizzazione del servizio di raccolta del vetro. L'obiettivo in quest'ultimo caso è la progressiva eliminazione delle campane. Importante sarà quindi la tariffa puntuale, la volontà di Via Donegani e di far pagare ai cittadini l'immondizia effettivamente prodotta. Verranno inoltre posizionate delle eco-isole, tutte iniziative che vogliono portare ad avere una città più pulita e con una gestione ottimale della raccolta dei rifiuti. Passiamo alla politica adesso. A Mortara si torna al voto domenica per il ballottaggio. Gli sfidanti sono Ettore Gerosa che è il candidato di Fratelli d'Italia ed è appoggiato da due liste civiche e Luigi Tarantola che è l'ex vice-sindaco del Comune che è sostenuto da Lega Forza Italia da una lista civica. Vi ricorderete al primo turno Gerosa aveva raggiunto il 43%, una cifra che aveva sorpreso molti analisti. Mortara si prepara a un altro weekend elettorale con il ballottaggio per decidere il prossimo sindaco dalle 7 alle 23 di domenica sarà possibile votare nei 15 seggi e scegliere uno fra Ettore Gerosa appoggiato da Fratelli d'Italia e due liste civiche e Luigi Tarantola ex vice-sindaco di Marco Facchinotti sostenuto dalla Lega da Forza Italia e da una lista civica. Gerosa parte dal clamoroso 43% di preferenze del primo turno mentre Tarantola si era fermato al 27,05% sebbene il vantaggio per Gerosa appaia pressoché incolmabile al ballottaggio questi risultati non conteranno in realtà più nulla vincerà chi otterrà un solo voto in più abbiamo cercato di essere il più possibile a contatto con la gente e abbiamo percepito un malcontento strisciante e la voglia di cambiare ha detto Gerosa dopo il primo turno ma in ogni caso non abbiamo ancora vinto e anzi arrivati a questo punto esprime un leggero rammarico per non essere riusciti a superare il 50% abbiamo amministrato la città negli ultimi 5 anni ha spiegato invece Tarantola e forse qualcuno ha preferito orientarsi in maniera diversa andremo a correggere quello che non è stato gradito un'ottima squadra e troveremo persone competenti a concluso che potranno darci la vittoria parliamo d'altro vi abbiamo raccontato dell'affidamento del servizio di gestione dei rifiuti a Pavia da SM a Sizziano invece c'è il bando per l'affidamento della gestione dei servizi educativi un bando che durerà due anni per cui il comune vuole investire circa 750 mila euro una base d'asta per l'affidamento del servizio dal valore complessivo di poco inferire 750 mila euro nei giorni scorsi il comune di Sizziano ha dato il via libera le procedure necessarie per l'appalto della durata di due anni per la gestione dei servizi educativi ed ausiliari del paese il bando fa riferimento in particolare all'asilo nido di via Cervi e alla sezione primavera gli operatori economici interessati al bando avranno tempo fino al prossimo 4 luglio per recapitare in comune le rispettive manifestazioni di interesse operatori economici che in seconda battuta saranno chiamati a presentare la loro offerta per quel che riguarda invece i tempi di avvio del servizio la nuova gestione partirà ufficialmente il prossimo primo settembre e andrà avanti fino al 31 agosto del 2024 allo scadere del contratto biennale non vi sarà alcun rinnovo fino a questo momento la gestione dei servizi educativi ed ausiliari di Sizziano è stata portata avanti dalla cooperativa Marta di San Nazaro come detto la base d'asta per assegnare il servizio è di circa 748 mila euro cifra che tiene conto del numero potenziale dei bambini che troveranno spazio nelle diverse sezioni ma anche dei numeri relativi alle iscrizioni e all'accesso al servizio degli ultimi anni scolastici siamo alla pagina degli eventi adesso domenica mattina in Cavalarizza Vigevano si terrà la festa dell'Avis cittadino che quest'anno celebra anche i 75 anni di attività verranno consegnate le benemerenze ai soci donatori una sessantina di donatori di sangue saranno premiati domenica a Vigevano durante la festa dell'Avis che quest'anno celebra anche i suoi 75 anni di attività e torna ad incontrarsi in pubblico dopo la pandemia abbiamo raggiunto il presidente Simone Carnevale Maffè in due parole cominceremo alle ore 10 del mattino con una messa nella chiesa di San Pietro Martire alla fine della messa ci saremo accompagnati con la banda dalla banda di Santa Cecilta e la banda di Vigevano per le vie del popolo Piazza Ducale la via 20 Settembre percorreremo poi un pezzo di strada sotterranea e andremo in Cavallerizzo dove ci si terranno le premiazioni stimate intorno a un orario delle 11 e un quarto 11 e mezza una sessantina i benemeriti presenti anche se mi raccontava prima le persone che saranno premiate o comunque insignite della benemerenza sono in realtà di più perché sono molti i donatori che afferiscono alla sezione di Vigevano dell'Avis sì esattamente proprio così 60 saranno presenti sono quelli che hanno diciamo il maggior numero di donazioni fatte e ogni determinato step di donazioni c'è un chiamiamolo riconoscimento una medaglietta che contraddistingue questo cammino che il donatore fa la prossima settimana giovedì 30 giugno venerdì 1 luglio invece si terranno i giochi di liberità organizzati dallo SPI CGL che è il sindacato dei pensionati e è previsto un concorso aperto appunto a tutti i pensionati over 55 ma anche un convegno per discutere di temi centrali come la non autosufficienza il problema del cibo ma anche il tema del reddito e delle pensioni Tornano i giochi di liberità organizzati dallo SPI CGL il sindacato pensionati italiani in provincia di Pavia la ventottesima edizione si terrà giovedì 30 giugno e venerdì 1 luglio alla sala polivalente di via Santissima Trinità a Garlasco si terrà un concorso aperto a tutti i pensionati di età superiore ai 55 anni per opere di poesia scrittura e scultura ma anche ballo fotografia e filmati durante la due giorni si terrà anche un convegno per discutere di temi centrali per gli anziani e non solo la non autosufficienza il problema del cibo e dell'ambiente il tema del reddito e delle pensioni è quello del cambiamento digitale della società siamo quindi una categoria che cerca di dare una mano il più possibile ampia affinché gli anziani non si sentono esclusi da questi grandi cambiamenti questi sono i quattro filoni su cui stiamo lavorando i giochi di libertà si innestano volentieri dentro a un ragionamento di questo tipo perché gli anziani non devono essere solo seri e guardare ai problemi ma devono anche essere gioiosi giocosi in un qualche modo e cioè in questi ultimi anni della loro vita devono anche essere disponibili e soprattutto poter loro stessi essere quelli che sono sempre stati nella loro vita e da questo punto di vista i giochi di libertà permettentero di gareggiare senza mirare dal punto di vista della vittoria ma dal punto di vista della partecipazione insieme agli altri con un concorso che riguarda le poesie che riguarda i racconti che riguarda la pittura che riguarda la fotografia che riguarda addirittura i video perché la tecnologia va avanti e scopriamo che molti anziani non sono indietro sulla tecnologia assolutamente un'iniziativa importante un'iniziativa che serve per socializzare veniamo fuori dalla pandemia da quel periodo bruttissimo che ha rischiato di mettere ha messo tutti in un certo modo in solitudine quindi c'è voglia di vivere voglia di ricominciare voglia di riprendersi in mano la loro vita e attraverso i giochi di libertà hanno modo di esprimersi di stare insieme e socializzare quindi la solitudine noi dobbiamo metterla da parte perché fa male dobbiamo stare insieme e cercare di andare avanti per lottare per i diritti degli anziani che sono tanti e con l'arrivo dell'estate tornano anche le mostre di Matteo Borioli il marchese della pop art l'artista pavese che è molto attivo in questo ultimo periodo allora andiamo a sentire quando saranno le date delle prossime esposizioni in provincia di Pavia una nuova mostra nel mese di agosto Fortunago in oltre pop avese e poi diversi altri progetti che toccheranno nuovamente anche il capoluogo la creatività di Matteo Borioli conosciuto come il marchese della pop art torna al lavoro siamo stati nella sua casa museo nel centro di Pavia per vedere da vicino il suo talento all'opera in vista dei prossimi appuntamenti allora i prossimi progetti sono nel mese d'agosto farò una mostra molto probabilmente la sto allestendo organizzando e finendo di dipingere gli ultimi quadri a Fortunago dove c'è un castello molto importante medioevale una meta molto ambita nell'oltre pop avese sarà su dei soggetti tipo battaglie battaglie napoleoniche delle nostre parti anche con personaggi pavesi real boino presi dal medioevo e dalla nostra cultura medioevale e tra un colpo di pennello ed un altro Borioli ha tracciato un bilancio sul lavoro degli ultimi mesi grande successo aveva avuto a ridosso di Natale la mostra Christmas Pop Art organizzata alla sala Ex Yacht di Piazza Vittoria Pavia proprio per questo dopo l'appuntamento di Fortunago Borioli tornerà a disporre anche nel capoluogo e all'info point è andato benissimo come progetto come mostra e verso il mese di settembre dovremmo ripetere un'altra mostra hanno partecipato più di mille persone nel mese in cui si è svolta la scorsa mostra che era Christmas Pop Art e questa mostra qua sarà legata alle manifestazioni della festa del Ticino quella di Borioli è una tecnica consolidata che abbina Pop Art e Street Art con colori vivaci e un tratto deciso ma nel prossimo futuro come ha spiegato ai nostri microfoni è pronto a sperimentare alcune novità per arricchire il suo repertorio creativo sto anche iniziando a sperimentare un nuovo stile sul cubismo ispirato tra il cubismo e il futurismo e farò forse entro Natale prossimo una mostra dedicata a questi soggetti che unirà la commercialità di Topolino al cubismo era l'ultimo servizio è tutto per questa edizione del nostro telegiornale io vi ricordo l'appuntamento in prima serata con le regole dello star bene con la nostra Cristina Colli e come sempre vi ringrazio per averci seguito vi auguro un buon fine settimana per averci seguito